labbra del retrile adesso vediamo no ah ecco mi avevo spaventato e dico tre avanti 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 ecco qua tutti ok spring avanti brevissimi questo è l'ultimo sì fantastico c'è già una preselezione molto bene grazie agli altri possono riuscire a rinco il nostro applauso grazie a tutti signori come vi dicevo intanto che il giudice guarda queste razze per oggi questa giornata è terminata domani rincomincerà la seconda giornata di questa 53esima esposizione canina vi ricordo che i giudizi inizieranno alle 10 e come oggi nel pomeriggio avremo i vari raggruppamenti della giornata di domani ma soprattutto alla fine noi rivedremo i vincistori dei raggruppamenti di oggi per la gran finale per la disputa del best in show best in show significa chiaramente il miglior soggetto assoluto di tutta l'esposizione che come vi ho ricordato prima ha avuto un grande successo di iscrizioni di numeri di cani siamo arrivati a 2600 e passa ed è da obbligo veramente ringraziare tutti quelli che hanno lavorato finché questa esposizione venisse al meglio e mi pare dalla prima giornata tranne qualche piccolo intoppo che è però stato risolto egregiamente da tutta l'organizzazione è andata bene per cui vorrei un grande applauso a tutto il gruppo cinofilo padovano perché credetemi un'esposizione così grande così ricca di numeri di cani è un po' difficile per cui credo che anche i giudici si associano a questa cosa per un applauso al gruppo cinofilo padovano grazie mille è impronunciabile grazie mille grazie mille grazie 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 ed è ora la volta l'attenzione del signor La Rocca del cocker americano che termina anche questa rassegna ultima questo ultimo raggruppamento allora viene con noi andiamo ah quindi lui grazie davvero a tutti signori sono proprio gli ultimi attimi al terzo posto West Spaniel Spring Spaniel secondo posto per il Golden Retriever e domani tornerà il Labrador Retriever grazie signori buonasera a tutti buona serata e ci vediamo domani se vorrete io ho già detto loro ma l'ingresso la macchina dobbiamo andare a prendere i cappotti dobbiamo prendere i cappotti ah ok no, ma l'abado no, ma l'abado no, ma l'abado